La provincia del CNEL Non ce l'ho fatta e allora la poltrona che salta è la mia Domani pomeriggio riunirò il consiglio dei ministri Ringrazierò i miei colleghi per la straordinaria avventura Una squadra coesa, forte, compatta E saldirò il Quirinale dove al presidente della repubblica consegnerò le mie dimissioni E volevi! Vole! Guarda che faccia! Guarda che faccia! Non se l'aspettava! Grazie a tutti!